Buongiorno a tutti gli ascoltatori e lettori. Quello che vedete in questo momento è il simbolo di Italiopoli e non è altro che un capro, è il capro appunto. Ci ho tra le mani un libro di Eric Frattini, del professor Eric Frattini e apro con questo una serie di letture su questo libro. Il libro si intitola I papi e il sesso. Chi è Eric Frattini? Eric Frattini è un professore universitario, nato a Lima nel 1963, giornalista e scrittore eclettico, appassionato di storia e di politica. Corrispondente dal Medio Oriente, analista politico e sceneggiatore televisivo. Ha abitato per diversi anni in Polinesia, in Paraguay, Libio, Cipro e Israele. Ha anche diretto numerosi documentari per le principali emittenti televisive spagnole con le quali collabora assiduamente. è autore di una ventina di libri tradotti in tutto il mondo, tra i quali Mafia, Osama Bin Laden, La espada di Allah, La storia, La santa alleanzia, Cinco singlos de espionage vaticano, ecc. Questo libro si intitola I papi e il sesso. Eric Frattini torna a sfidare la Chiesa con un saggio documentatissimo e sconvolgente, in cui sfilano secolo dopo secolo i sommi pontevici e i loro indicibili vizi. Almeno 17 papi pedofili, 10 incestuosi, 10 ruffiani, 9 stupratori. E poi, nonostante continui condanne dell'omosessualità, del masumone e del concubinato tra religiosi, decine di pontevici sposati, omosessuali, travestiti, concubinari, per non parlare dei sadici e dei masochisti, dei huaier, ecc. Inimmaginabile quanti fra questi siano stati perfino canonizzati. Quindi, addirittura, nessuna religione al mondo ha mai dibattuto tanto l'intimità sessuale come il cattolicesimo, scrive Frattini, e nessuna ha mai imposto altrettanto dettagliatamente i suoi codici di comportamento, ancora oggi, tolleranza zero verso le coppie di fatto, l'aborto, la concentrazione e l'opocondazione assistita. Ebbene, dalle Sacre Scritture a Benedetto XVI, benvenuti nell'epopea sessuale della Chiesa Cattolica. Vi leggo alcuni passi di questo libro. Allora, il libro vuol dar conto di come il sesso è stato trattato dalle origini, ovvero dalle Sacre Scritture, fino ad oggi, cioè fino all'attuale Papa Benedetto XVI, e di come i pontefici di Roma, mentre condannavano e punivano l'incesto, l'omosessualità, lo stupro, l'adulterio, la pederastia, la sodomia e il concubinato ecclesiastico, si dedicavano all'esercizio di ognuna di queste pratiche senza alcun pudore, all'ombra del potere della tiara e delle chiavi di Pietro, nel silenzio e nel segreto delle camere da letto papali. Come si suol dire, predicavano bene e razzolavano male. Andiamo a vedere da molto lontano come si è un po' evoluta tutta questa situazione. Partiamo addirittura dal Deuteronimo, dalla Bibbia. Come primo cornuto biblico potremmo citare Abramo, dice Frattini, che secondo la tradizione ebraica è uno dei patriarchi del popolo di Israele. Considerato il fondatore del giudaismo, Abramo è ritenuto dai cristiani e musulmani il padre dei credenti. Il libro della Genesi ci mostra come Abramo si comportò davigliacco e a causa del suo atteggiamento divenne cornuto. Nella Genesi, versetti 12-10-20, vediamo con chiarezza il comportamento del padre dei credenti. E allora, leggiamo cosa successe. Venne una carestia nella terra e Abramo scese in Egitto per soggiornarvi, perché la carestia gravava su quella terra. Quando fu sul punto di entrare in Egitto, disse alla moglie Sarai, vedi, io so che tu sei donna di aspetto avvenente. Quando gli egiziani ti vedranno, penseranno, Costei e sua moglie, e mi uccideranno, mentre lasceranno te in vita. Di dunque che tu sei mia sorella, perché io sia trattato bene per causa tua, e io viva grazie a te. Quando Abramo arrivò in Egitto, gli egiziani videro che la donna era molto avvenente. La osservarono gli ufficiali del Faraone e ne fecero le lodi al Faraone. Così la donna fu presa e condotta nella casa del Faraone. A causa di lei egli trattò bene Abram, cioè Abramo sarebbe, che ricevette greggi, armenti e asini, schiavi e schiave, asine e cammelli. Ma il Signore colpì il Faraone e la sua casa con grandi calamità, per il fatto di Sarai, moglie di Abram. Allora il Faraone convocò Abram e gli disse Che mi hai fatto? Perché non mi hai dichiarato che era tua moglie? Perché hai detto, è mia sorella? Cosicché io me la sono presa in moglie. E ora, ecco di tua moglie, prendila e battene. Poi il Faraone diede disposizione su di lui ad alcuni uomini, che lo allontanarono insieme con la moglie e tutti i suoi averi. E questa è la storia del, come si suol dire, magnifico cornuto Abram. A quanto pare Abramo, il grande patriarca, ha preferito cedere sua moglie e farla andare a letto con il Faraone in cambio di ricchezze. Una cosa simile all'odierno prosenetismo. Ma quando il Faraone si è accorto dell'inganno e ha rimproverato Abramo per averli ingannato e per aver scatenato la punizione di Dio sul suo popolo, il patriarca non dice nulla, non dice una parola e se la squaglia in tutta fretta. Nella Genesi, versetti 20, 1-15, vediamo che Abramo non ha imparato niente dell'esperienza egiziana e quando si trova a passare da Gerar, la storia si ripete. Insomma, come si suol dire, cornuto e contento. Vediamo un po' cosa... Andiamo a leggere il capitolo primo, i primi padri, dall'anno 0 a 67 d.C. Per la Chiesa Cattolica i papi sono i successori di colui che, secondo i Vangeli, Gesù considerò il primo dei suoi apostoli. Simone, figlio di Giona, accettò, senza fiatare, che Gesù gli cambiasse il nome in Cefas, da cui deriva il latino Pietro, ovvero Pietra. In realtà, la parola Papa dal greco Papas base comparva a Roma in un secondo momento. E allora, I Vangeli di Marco, Matteo e Luca concordano nell'indicare che Simon Pietro era sposato quando conobbe Gesù. Alcuni testi dell'antichità concordano anche nel sostenere che Pietro viveva in Gallilea con la moglie e la suocera, per cui don'è scorretta a affermare che il primo Papa fece sesso, almeno con la propria sposa. Nella prima lettera ai Corinzi, Paolo parla di Pietro e afferma che durante il viaggio apostolico era sempre accompagnato dalla moglie, per cui si suppone che, anche dopo la crocifissione di Gesù, Pietro vivesse ancora con lei. Secondo il Vangelo Gnostico di Tommaso, uno degli scritti apocrifi esclusi dalla Bibbia, Gesù disse «Quando vi spoglierete senza vergogna come fanno i bambini, quando di due farete uno, allora del maschio e della femmina farete un unico essere, allora inserete nel regno». Molti testi dell'antico cristianesimo potrebbero non lasciare dubbi sulla posizione di Gesù e di Pietro se riguarda il sesso. Tito fa Flavio Clemente, morto intorno al 211, meglio conosciuto come Clemente Alessandrino, scrisse sull'etica sessuale del cristianesimo. In una delle sue opere sostiene che Pietro era un uomo sposato. Per ora ci fermiamo qui e continueremo, per non appesantire molto questo filmato, che è attestato intorno ai nove minuti e mezzo, dieci minuti. Continueremo in un'altra videata con altri capitoli che riguardano questa triste vicenda, insomma, la vicenda dei papi che si sono succeduti nel tempo fino ad oggi. Ne sentirete delle belle. Italiopoli vi saluta e alla prossima puntata. Riprendiamo sempre questo simbolo di Italiopoli, che altro non è che un capro. Allora, riprendiamo con i papi e il sesso. Capitolo secondo I primi papi I primi papi, stando all'elenco ufficiale dei papi, il successore di Pietro, fullino, papalino, anno 67-79, originario della Toscana, le fonti più antiche, quali Ireneo di Lione e Eusebio di Cesarea, concordano nell'affermare che fu l'apostolo Pietro a nominare Lino come proprio successore all'episcopato di Roma. Sembra che Lino fosse sposato e avesse due figli. A lui si deve la prescrizione che obbligava le donne a indossare il velo durante le cerimonie liturgiche. Di questo papa non si sa più niente, si perde proprio nei meandri dei secoli, nel buio dei secoli. Il secondo nell'elenco è Anacleto, 79-91 d.C. Il suo nome, Anacletos, significa irreprensibile. Anacleto fu nominato successore di Lino. Tra i cristiani ci fu una grande polemica quando Anacleto fu nominato successore di Lino. Tra i cristiani ci fu una grande polemica perché, quanto per cambiare, era sposato. Andiamo avanti. I pontefici che seguirono si preoccuparono più di affermare e diffondere la nuova fede che disciplinare i costumi sessuali dei fedeli e del clero. Papa Sotero, anno 166-174. Esistono due opinioni contrastanti. Una prima corrente di pensiero sostiene che il pontefice fosse un nemico dichiarato del sesso, mentre l'altra che gli piacevano molto le concubine. A conferma della prima opinione, in un documento, Papa Sotero accusò Dionigi, il potente vescovo di Corinto, di mantenere un atteggiamento troppo rilassato rispetto al sesso. Infatti, erano giunte voci che il vescovo organizzasse orge e baccanali e poi partecipavano giovani entrambi i sessi, che si esibivano sotto l'attente e concupiscente sguardo di Dionigi e della sua cerchia. Si raccontava di cerimonie in cui una giovane vergine veniva offerta a diversi giovani in una stanza circolare con un gran letto circondato da una pedana sulla quale le alte cariche religiose osservavano la scena. Erano pure guardoni. Rispetto alla seconda ipotesi, cioè che al Papa piacesse avere delle concubine, si dice che quando fu eletto si fosse rifiutato di ripudiare Priscilla e Massimilla, due belle ragazze romane che vivevano con lui e alle quali concesse il titolo di discepole. Andiamo avanti. Papa Vittore I, 189-198, aveva le stesse inclinazioni e tendenze di Dionigi e di Soriedo. Vittore fu di certo il primo pontevice a tenere legami molto stretti con l'impero, a quel tempo governato dal corrotto Commodo, anno 180-192. Le relazioni tra Vittore e Commodo furono possibili grazie a Marcia, che era l'amante dell'imperatore. Andiamo avanti nel tempo, perché su questo Papa non c'è più nient'altro da dire. E parliamo di Callisto. Callisto fu nominato sommo pontefice Callisto I, nel 217-222. Durante il suo pontificato, Callisto I fu costretto ad affrontare l'antipapa Ippolito. Questi era arrivato dall'Oriente dopo la nomina presbitero ricevuta dal Papa Vittore I. Discepolo di Sant'Ireneo si ripetava di piegarsi e di sottomettere la propria intelligenza e cultura dei religiosi mediocri, quale Zefirino, Callisto, Urbano e Ponziano. Una delle principate critiche mosse da Ippolito a Callisto era quella di essere diventato troppo permissivo sulle questioni relativi al sesso con l'imperatore Elio Gabbalo. Callisto concedeva il perdono ai religiosi accusati di aver commesso dei crimini, ordinava sacerdote e uomini che erano stati sposati anche più di una volta e permetteva ai religiosi di contrarre il massimonio. Concesse anche ad alcuni importanti membri della Curia di continuare a occupare la propria carica, sebbene fosse stato dimostrato che durante le celebrazioni liturgiche avevano avuto rapporti sessuali con alcuni fedeli. Non c'è male. Ma Papa Callisto era anche decisamente abile in raccaldare nuovi seguaci al cristianesimo. Quando a Roma l'adulterio era punito con la morte, Callisto concedeva documenti di perdono con cui assolveva gli adulteri e i fornicatori in cambio di una severa penitenza. Passiamo ad un altro Papa Un altro Papa e vediamo un po'. Andiamo direttamente al Papa Damasu anno 366-384 Damasu era un uomo brillante e colto, poeta, autore di celebre epitaffi aristocratica, abituato a relazionarsi con la gente e riscosse un grande successo e quella che si potrebbe definire l'alta società romana. Lo storico contemporaneo Ammiano Marcellino non si stupiva nell'osservare le violente e sanguinose reazioni degli uomini che cercavano di conquistare il potere papale. Scriveva allora Marcellino «No, non c'è comunque da meravigliarsi considerato lo splendore di Roma che in un premio così ambito accende il desiderio di uomini maliziosi ed eterni rotte più feroci di Roma». Damasu organizzava grandi banchetti in onore dei suoi potenti ospiti e si lasciava anche amare dalla sposa di qualche notabile il cui marito desiderasse ascendere alla cerca ecclesiastica. Un cronista dell'epoca scriveva «Dopo lo spettacolo di belle danzatrici portavano un grande maiale con un ripieno squisito su un vassoio d'argento tordi, anatre, arroste e uova, ostriche e conchiglie ricoperte di purè e di piselli» quanto per stare in tema. Era evidente che già a quell'epoca la Chiesa costitiva un grande potere e il Papa era il suo miglior rappresentante. L'allora seretario papale San Girolamo di Stridone, vero credente e asceta, raccomandava alle nobili donne romane ed in particolare alle loro giovani figlie di tenersi lontani dagli ambienti papali. San Girolamo criticava apertamente Papa Damasu perché si era circondato di una corte di giovani sacerdoti in berbi che controllavano il clero e le suore vergini di professione, le vedove e le donne cristiane perché sotto l'influenza del Papa si erano pervertite. Molti sacerdoti vicini a Sommo Pontevi ci accettavano senza piadare l'ordine di non sposarsi ma poi nelle loro case si circondavano di belle schiave e trascorrevano la maggior parte della vita ecclesiastica in compagnia di donne. Damasu I era sposato fu un pedofilo ed un adultero. Nei 18 anni in cui fu a capo della chiesa consentì ai giovani di diventare sacerdoti autorizzandoli in questo modo ad avere libero accesso ai conventi e alle residenze in cui si trovavano al riparo le giovani vergini. Come si vede la pedofilia nella chiesa di Roma ha una data abbastanza lontana. Qua siamo al tempo di Damasu nell'anno 366-384 Il successore di Damasu fu Siricio nato a Roma il nuovo pontefice era stato a servizio di Liberio e di Damasu in Sambi criticato appartamente per la liberalità in fatto di sesso. Siricio cosfinse i sacerdoti ad abbandonare i nobili letti di Roma e si indignò quando venne a sapere che i religiosi spagnoli continuavano a spassarsela con le proprie mogli senza alcun impedimento legale. In questo periodo, infatti, fino al III secolo la castità era obbligatoria solo per i monaci mentre i sacerdoti potevano sposarsi e vive la chiesa. Oltre a San Girolamo un altro difensore della morale sessuale del periodo fu Sant'Agostino che diede inizio alle lunghe polemiche della chiesa contro gli anticoncezionali definiti i veleni della sterilità. Di questo ne parliamo più in dettaglio in un altro capitolo. Per ora terminiamo per non appesantire appunto l'ascolto dei nostri ascoltatori. Alla prossima puntata Italiopoli vi saluta.